e andiamo dai ragazzi andiamo, siamo qualificati per la finale, madonna partita tra Sassuolo e Juve 1-1 nei tempi regolamentari dopo è andata ai rigori perché non c'erano i supplementari, c'erano direttamente i rigori e ai rigori ha vinto la Juve, per fortuna Bottin ha sbagliato il primo rigore poi Cantore Cuore Bianconero ha sbagliato il rigore per il Sassuolo noi non ne abbiamo più sbagliati, c'è stata Gamma che ha tirato sotto l'incrocio avete presente il paletto, quello all'interno, ha preso quello, vabbè sotto l'incrocio, ha fatto incrocio, palo e vabbè, comunque ha tirato una legnata clamorosa Girelli ha fatto lo stesso, una bomba assurda e dopo una delle loro non mi ricordo, Christensen, una roba del genere o mi sto confondendo con un calciatore del maschile, beh vabbè la loro ultima praticamente ha tirato e per Omaniana ha parato yes anche Bottin comunque non è che aveva, non l'aveva mandato in curva semplicemente gli era parata in portiere tra l'altro non lo so, il piede mi sembrava un po' al di là, però vabbè, del portiere quando è partita, però vabbè in ogni caso, niente, andiamo in finale oggi è passato il Milan, una sorpresa io avevo detto se finirà 4-1 per la Roma con tutti i casini che ha il Milan femminile adesso, in questo momento ho messo su, ho iniziato a guardare la partita dal secondo tempo, stava vincendo il Milan 2-0 io ero lì, ma come? vabbè, quindi lì la finale sarà Milan-Juve e nulla ragazzi sono contenta, oggi è stata una partita un po' brutta devo essere onesta, tante non erano in forma l'unica che ha fatto veramente una bellissima partita è stata Nilden che correva a più o un posto, probabilmente si è allenata in quarantena perché sennò non vedo come possa essere così in forma e anche Lenzini, Lenzini ha fatto una bella partita le altre non mi sono piaciute tantissimo, le ho viste fuori forma non c'erano proprio comunque, vabbè, andai sempre fino alla fine Forza Juve se volete vi pubblico anche la reazione e i rigori che ho registrato però non ho parlato perché c'era mia mamma che stava di fianco che stava lavando i piatti e quindi non volevo parlare però se volete appunto dopo sto video vi carico anche la reazione ai calci di rigore delle ragazze ciao ragazzi, sempre fino alla fine Forza Juve ciao